benvenuti al tg lis della giunta regionale della basilicata la task force regionale comunica che in tutta la giornata di ieri 29 marzo sono stati processati 248 tamponi per l'infezione da covid 19 di questi 236 sono risultati negativi e 12 positivi i nuovi positivi sono così distribuiti due a tricarico quattro a matera uno a grassano uno a garaguso uno a venosa uno a sant'arcangelo uno a rio nero in vulture e uno a pignola con questo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta la regione su un totale di 1833 tamponi analizzati diventano 210 a questi vanno aggiunti cinque pazienti deceduti un guarito una persona residente a gioia del colle in isolamento nella struttura dognocchi di tricarico e otto cittadini lucani la cui diagnosi è stata effettuata in altre regioni in basilicata ci sono 157 persone in isolamento domiciliare e 54 ricoveri di cui 18 in terapia intensiva ad oggi nell'ambito della campagna di comunicazione della regione scacco matto al coronavirus sono stati raccolti 298.877 euro che verranno utilizzati per acquistare dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario impegnato nell'emergenza il prossimo aggiornamento domani 31 marzo alle ore 12